Buongiorno, come si chiama? Paola Ceschini. Di dov'è? Di Riva del Garda, provincia di Trento. Ha mai utilizzato l'olio extravergine per un uso un po' diverso dal solito? Certo. Come? Lo usavo per i bambini quando avevano la crosta lattea, glielo spalmavo sulla testina, era un ottimo emolliente e toglieva il tutto. È mai venuta in Umbria? No. Grazie. La invito intanto al nostro stand qui dell'Umbria, qui accanto al Vinitaly, al Sol. Abbiamo l'area 19, così intanto degusta i nostri oli dopo Umbri. E poi magari con il nostro concorso vince un weekend così potrà visitare la nostra regione. Grazie. Grazie.